il team dinamica ha scelto questo tipo di campionato perché secondo il nostro punto di vista il marchio porsche è legatissimo all'ambiente motosport sono una persona molto umile e quindi anche il nostro spirito vuole essere questo siamo un po le cenerentole del campionato a livello di team ma pensiamo di avere tutti i mezzi tecnici per poter fare un'ottima stagione anche quella anche se al debutto entrare un campionato dove gli altri nostri diretti concorrenti avevano già esperienze di anni sulla stessa vettura sarebbe stato per noi un problema molto grosso e invece con la macchina nuova un po per tutti penso che ce la potremmo giocare molto meglio alex de giacomi ha una buona a una buona esperienza lui punterà a vincere la michelin cup con giovanni berton considerato considerato la sua buona stagione 2013 pensiamo di poter diciamo giocarci le nostre carte per poter far bene anche per il titolo invito altri team a prendere in considerazione la carrera cup perché anche se per noi il nostro primo anno penso sia uno dei migliori campionati a livello nazionale da poter competere dimostrare le capacità sia del pilota che della squadra un saluto a tutti ci vediamo in pista perché anche se siamo gli ultimi essere arrivati non vorremmo cercheremo di essere i primi alla fine a fine gara ciao